Nell'emiciclo di Strasburgo è seduto all'ultimo banco, come si conviene a quelli che a scuola vengono considerati ribelli. In effetti Nico Semschnott è un personaggio fuori dagli schemi. Il cabarettista tedesco eletto europarlamentare nella lista di Die Partei, il partito, è famoso per le sue felpe, mai avvistato infatti in giacca e cravatta, e soprattutto per le sue provocazioni. L'ultima durante il voto di fiducia alla nuova Commissione europea, abolire la sede di Strasburgo. Semschnott, intervistato per Euronews dai colleghi tedeschi, è stato chiaro. I membri del Parlamento europeo si riuniscono a Strasburgo per una settimana ogni mese, ma il resto dei giorni di lavoro lo passano a Bruxelles. Questo significa una carovana di auto che si sposta ogni 30 giorni per una spesa di oltre 120 milioni di euro l'anno. Ed ecco le scamotage. Prendere un'aula di Bruxelles, ribattezzarla a Strasburgo e riunirsi lì. D'altronde, afferma Semschnott, il trattato di Amsterdam stabilisce che il Parlamento europeo debba avere sede a Strasburgo, ma non nella città di Strasburgo, quindi va bene anche una sala con questo nome. Qualcuno ha avallato la sua teoria parlando di diminuzione delle emissioni di CO2, altri invece hanno sorriso. L'artista europarlamentare aveva già fatto parlare di sé in estate, quando sempre con la sua immancabile felpa ha fatto notare alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, un conflitto di interessi di alcune sue consulenze in materia di difesa.